Con la riapertura di tutte le attività, a seguito del venir meno delle restrizioni più importanti riguardanti la pandemia, anche il Centro Sportivo Italiano si sta attrezzando per affrontare questa nuova fase. Come appunto la state vivendo? La stiamo vivendo su un'ottica di portare le società sportive e il materiale veramente da lavorare. Abbiamo cercato di sviluppare in questo periodo e andremo a pubblicazione a breve i nostri corsi di formazione. Corsi di formazione tecnici per quanto riguarda il ruolo dell'istruttore tecnico che va a far parte di un'attività sportiva in particolare e i corsi di formazione per gli educatori dei campi estivi. Questo è il pronti e attenti via che noi diamo allo sport. Noi diamo allo sport da un punto di vista di formazione. Ovviamente ci stiamo aprendo anche a quelle discipline sportive che al momento è possibile fare e su questo abbiamo già calendarizzato nel mese di maggio zone colorate permettendo di poter farlo sport, di farlo in sicurezza sicuramente, ma sicuramente per ritornare o a calciare un pallone o a giocare a tennis o a giocare a pallavolo, comunque a rifare sport. Siamo anche di fronte alla chiesa di San Michele in Arezzo. Qui c'è un punto importante per il Centro Sportivo Italiano. Che cosa possono trovare anche le persone che si volessero interfacciare con lui? Qui a San Michele abbiamo la nostra sede legale, la sede che è operativa H24 da un punto di vista di smart working. Però siamo aperti qui tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato mattina su appuntamento. Questo lo facciamo per dare un punto di riferimento alle società che magari in questo momento qui si sono un po' anche annoiate di utilizzare le piattaforme internet e per arrivare a avere una presenza costante sempre sul territorio. Dopo un anno di chiusure è anche importante ritornare a fare sport. In questo senso cosa viene offerto alle persone che volessero rimettersi in forma? Abbiamo creato un servizio che si chiama CSI Network. Per fare cosa? Per mettere le società a sportello del territorio, a sportello degli atleti, a sportello di chi vuole prendere l'attività sportiva. Iniziamo subito, iniziamo con percorsi individuali e in gruppo collettivo, cercando di mettere a disposizione le nostre realtà sportive. Sono tante, sono 86 realtà sportive di cui 20 discipline diverse. Quindi lo sport c'è, è a scelta e a disposizione degli utenti. Su questo abbiamo anche creato un punto di riferimento con una direzione tecnica presieduta da Simone Corradeschi che andrà poi a sviluppare le richieste anche particolari o delle società sportive che magari non sono affiliate al nostro comitato, ma per società sportive, apro una bella parentesi per richiuderla subito, sono anche gli oratori. Quindi noi siamo qui al territorio, siamo al territorio veramente a 360 gradi per poter dare un servizio soddisfacente, misurato e calibrato nel tempo anche al mondo degli oratori aretini. Per gli oratori è un momento importante, visto che ci si avvicina anche all'estate, alle attività estive. È difficile fare previsioni, visto la fluidità del contesto generale. Ma come vi state preparando appunto con gli oratori in vista dell'estate? Con gli oratori inizieremo a breve una serie di incontri online per capire che esigenze hanno. L'abbiamo già iniziato con qualcuno in particolare nelle scorse settimane, ma andremo a svilupparlo sempre di più. Andremo a creare un po' dei crash test, cioè ovvero delle prove di sport in questo momento storico qui. Sicuramente quello che noi siamo disposti a dare a loro è il servizio sulla parte sportiva, sulla parte di eventi e anche magari sviluppare quando sarà possibile e ove sarà possibile anche una serata tematica dove il sociale veramente incontra il territorio. Su questo ci crediamo tanto, ci crediamo perché abbiamo sempre di più costruito un gruppo operativo all'interno del nostro comitato che possa dare valore, sostegno e sostanza a quello che è la richiesta della nostra parrocchia, in questo caso oratorio. Rispetto all'anno scorso ci sarà la ripetizione dello schema, comunque delle attività svolte l'anno scorso, oppure pensate che ci possano essere delle differenze, delle novità? Allora, ad oggi siamo in attesa di capire un po' quelli che saranno le linee guida anche sullo sviluppo dei campi estivi, che sono il primo bisogno che adesso saremo pronti a dover reperire ai nostri oratori. Su questo siamo in attesa di capire quelli che sono i decreti, quelli che sono i passi da seguire. Sicuramente quello che sarà fondamentale è utilizzare quelli che sono i protocolli di sicurezza, non soltanto per gli sport, ma soprattutto anche per le discipline in gruppo. Ricordiamo un po' i rapporti di educatore e persona che magari partecipavano al campo estivo, ricordiamo la sicurezza che deve essere costantemente messa in atto anche da un punto di vista dei pranzi e quindi quello che riguarda le uscite. Quindi andremo nei prossimi giorni a creare anche dei crash, anche qui in diretta, per cercare di dare soluzioni e risposte, nel particolare, alle nostre realtà territoriali. Dopo un anno di chiusure, qual è lo stato di salute delle società e di tutte le realtà aggregate e seguite dal centro sportivo italiano? Allora, noi su questo abbiamo fatto un termometro, non l'abbiamo fatto nel primo lockdown, nel secondo e speriamo che non ci sia un terzo, però l'abbiamo fatto costantemente. Ad oggi c'è bisogno di dare, ad oggi c'è voglia di tornare a fare sport, a fare sociale, a fare rete. Ecco, su questo il territorio ha voglia veramente di tornare. C'è una problematica, la problematica impiantistica. Questa è una problematica che ogni realtà ovviamente ha quello che ha a disposizione e deve cercare con quel materiale lì poter dare una proposta ai propri ragazzi. Il territorio pullula di voglia, pullula di attenzioni, però a certo tempo bisogna essere costantemente attaccati a quelle che sono le direttive, perché non dobbiamo farci prendere dalla voglia di abbracciarsi facendo venire meno i regolamenti. I regolamenti sono chiari, quelli per quanto riguarda la realizzazione dei campi estivi, ne usciranno breve sicuramente altri. Ecco, noi siamo qui pronti a spiegarli perché dobbiamo ripartire a fare sport, ma soprattutto a ritrovarsi insieme in un oratorio, in una parrocchia, in una realtà sportiva, seguendo la massima attenzione. Anche perché andiamo a che fare con dei bambini piccoli, la nostra fascia d'età prettamente sportiva si attesta dai 7 ai 25 anni. Ecco, su questo dobbiamo lavorare con mille occhi. Come avete affrontato questo periodo anche con una nuova dirigenza che si è insediata da poco e come pensate anche di rispondere alle eventuali richieste che venissero dalle parrocchie e dalle persone che dopo tanto tempo si vogliono riaffacciare all'attività sportiva? Il 19 di dicembre è stato eletto un nuovo consiglio, un consiglio operativo, un consiglio che è andato subito a creare delle commissioni e delle aree di sviluppo. Abbiamo dall'area tecnica, dall'area formativa, quindi abbiamo messo le persone all'interno delle varie aree. Su questo siamo a disposizione. La nostra segreteria, che l'anno scorso era una figura sola, adesso sono due, barra tre, che sia al terno, sia a distanza che in presenza, per poter essere d'aiuto alle nostre società. Quello che noi vogliamo sicuramente fare tramite i nostri social, che sono Facebook e Instagram, è cercare anche di far vedere come lo sport può essere fatto, quello che noi andremo a sviluppare e soprattutto cercare di essere veramente un punto di domanda per tante società, dove poter dar risposte. Noi su questo lanceremo a brevissimo un nuovo slogan, che è quello ripartiamo da 5 nuove azioni, ecco, oppure dammi il 5. Lavoriamo sul 5. Il 5 cosa rappresenta per noi? Rappresenta la formazione specifica, la formazione tecnica, l'attività sportiva, il corso di Covid Manager e tante altre piccole, diciamo, l'ultimo 5, l'ultimo punto, l'andremo a sviluppare veramente con il gruppo giovane del Ci Siamo, perché loro sarà il caposaldo del nostro futuro. Vogliamo parlare a dirigenti? Abbiamo veramente una media di comitato molto importante nel Consiglio Direttivo e nel Consiglio di Presidenza, che è di 43 anni, quindi per noi è un successo perché vuol dire abbiamo portato giovani all'interno della nostra associazione. Abbiamo una vicepresidente che è Giulia Nocentini, che ha appena più 18 anni, quindi è giovanissima, e abbiamo cercato di creare un gruppo giovane. Il gruppo Ci Siamo, un gruppo che si vede da un anno fare soprattutto attività del sociale, ricordiamo le mascherine, ricordiamo tante iniziative anche a scolpetto nelle scuole del territorio, per cercare di mettere i giovani al centro del progetto educativo, sportivo, dirigenziale futuro. Se non partiamo dai giovani, rimaniamo pochi, rimaniamo soli e rimaniamo deboli. Quello che è il nostro è un invito agli oratori e alle parrocchie a imparare a delegare, imparare a credere sulle persone che fanno parte del gruppo, perché solo così potremo veramente creare un'energia nuova e forte. Su questo ci crediamo tanto, ci abbiamo creduto prima, ora più che mai, e penso che ad oggi sia solo da mettere in pratica, perché al di là dei credi, al di là degli slogan che abbiamo appena lanciato, dobbiamo essere operativi. Di recente c'è stato anche un incontro con l'Arcivescovo Riccardo Fontana. Cosa è emerso da questo incontro? Con Riccardo Fontana c'è stata la nostra voglia di incontrarsi, veramente poter capire quello che potevamo dare sempre di più al mondo degli oratori. Abbiamo cercato di dare a lui un punto della situazione, lo stato dell'arte del nostro comitato, degli oratori a noi affiliati, che sono veramente tanti, sono più di 20, e quindi abbiamo cercato di mettere a conoscenza, di informazione, quello che è il nostro Stato. La risposta qual è stata? La risposta è stata positiva, è stata una risposta di voglia di fare, di mettere il CSI al centro del rilancio del ruolo degli oratori. Noi c'eravamo, come dicevo prima, e ci siamo ancora ora, e quindi ecco proprio la volontà della Dioceti di Arezzo, Cortone e Sansepolcro è quella di mettere il centro sportivo italiano a disposizione degli oratori per veramente fare attività. E quando diciamo attività, intendiamo qualsiasi attività. Abbiamo anche l'attività legata al mondo, che ad oggi magari è meno conosciuto, quello che può essere l'azionariato di rete con le associazioni del territorio. Cerchiamo di creare con il nostro CSI Network, nelle varie vallate, un CSI in tour. Giochiamo molto su questa parola CSI, ma deve essere un po' un mantra per noi, soprattutto per chi ci segue, perché dobbiamo cercare di mettere a disposizione delle comunità territoriali l'unione, l'unione con le istituzioni, con le varie realtà associative, e quindi cercare veramente di fare rete, ma di fare una rete a questo punto operativa sul campo, e su questo la Diocesi ci ha dato piena consapevolezza, voglia e credibilità sempre di più nel territorio diocesano retino. Grazie a tutti.